Conto alla rovescia per il turno di ballottaggio che il 9 e 10 giugno interesserà 67 comuni italiani di cui 11 capologhi di provincia, tra cui Barletta in Puglia. Il ritorno alle urne coinvolgerà un corpo elettorale di 4.485.637 elettori, di cui poco più della metà donne. Dalla mezzanotte di oggi scatta il silenzio elettorale che vieta ai candidati sindaci di svolgere comizi, riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di affiggere stampati, giornali, murali e manifesti e diffondere trasmissioni radio-televisive. In Puglia, oltre all'unica città capologo di provincia, Barletta, torneranno a votare i cittadini di altri 10 comuni. A contendersi Palazzo di Città, nella città della disfida, Pasquale Cascella del centro-sinistra, che nel primo turno ha registrato il 43,68% delle preferenze, contro Giovanni Elfarano del centro-destra con il 26,88%. Al secondo turno anche Bisceglie. La sfida è tra il sindaco uscente Francesco Spina, sostenuto da Udc, scelta civica e 10 liste civiche, 34,45% delle preferenze per lui, contro il 27,65% di Gianni Casella del centro-destra. In provincia di Bari, ballottaggio anche a Molfetta. A contendersi la fascia di primo cittadino Nini Camporeale del centro-destra, che al primo turno aveva ottenuto il 46,67% delle preferenze, e Paola Natalicchio del centro-sinistra con il 32,95%. Ballottaggio anche a Corato, riflettori accesi sulla sfida tra Franco Caputo del PDL, 47,14% al primo turno, e Renato Bucci del PD, 40,07%. E poi ancora Modugno, Noce, Valenzano ed Acquaviva delle Fonti. Nel primo comune si dovrà decidere tra Saverio Fragrassi, del centro-destra, 42,94% delle preferenze alla prima chiamata alle urne, e Nicola Magrone, 35,74%. A Noce, al secondo turno, Stanislao Morea, centro-destra, con il 46,98% delle preferenze, e Domenico Nisi, centro-sinistra, 44,34%. A Valenzano, al ballottaggio, i rappresentanti di due liste civiche, Antonio Lomoro, 32,61% di preferenze al primo turno, contro Tonio De Nicolò, 25,79%. Ad Acquaviva delle Fonti, di nuovo al voto Davide Carlucci, centro-sinistra, che ha ottenuto il 27,82% delle preferenze al primo turno, e Giacinto Claudio, del centro-destra, con il 26,31%. In provincia di Foggia, secondo turno, per Sanicandro Garganico, sfida tra Pietro Paolo Guarano, lista civica, con il 41,70% dei voti, e Mario D'Ambrosio, del centro-sinistra, 27,55%. Nel Brindisino, ballottaggio anche a Carovigno, tra Tonia Gentile, del centro-destra, con il 43,11%, e Cosimo Mele, lista civica, con il 35,07%. In provincia di Taranto, al secondo turno, il comune di Manduria, sfida tra Luigi Morgante, del centro-destra, 27,09% delle preferenze, contro Roberto Leonardo Massafra, lista civica, con il 25,73%. Intanto, previste tariffe speciali per chi si sposta con Trenitalia. Gli elettori che raggiungeranno in treno i comuni sede di votazione potranno ottenere riduzioni del 70% rispetto al prezzo base, solo per i viaggi di andata e ritorno a livello standard, defreccia rossa, e in seconda classe dei treni a media-lunga percorrenza nazionale e servizio cucette. Per i treni regionali è prevista una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto. Gli elettori residenti all'estero potranno usufruire della tariffa Italian Elector.